Ogni donna vuole sentirsi bella, quindi si rivolge a un professionista, però chiedendo di essere in ordine e soprattutto glamour, in linea con la moda e quello che la moda chiede. Partiamo dai colori, che cosa propone Roberto? Allora, io sono dell'idea che adoro tutto ciò che è naturale, per cui valorizzerei assolutamente ciò che la natura ci ha dato e questo mi piace tantissimo. Per cui se si può, tra virgolette, migliorare o quantomeno valorizzare al meglio quello che abbiamo, secondo me è il massimo, perché poi alla fine ogni donna, ogni ragazza, ogni persona non ama essere schiava di questo sistema, ma sentirsi bella quotidianamente e non solo quando vado al parrucchiere. Per cui mi piace l'idea di valorizzare al meglio quello che la natura ci ha dato. Pensiamo alle passarelle e vedremo più corti, capelli lunghi, capelli mossi, capelli lisci. Cosa fa tendenza? Io personalmente amo il capello lungo, perché per me la donna è il capello lungo, però non nego che negli anni ho riscoperto che forse, crescendo anche io personalmente come uomo, la donna quando è donna è donna sia con i capelli corti che con i capelli lunghi, è un mio gusto personale il capello lungo, per cui direi lungo. Poi sicuramente viso scoperto, perché io amo le donne con il viso scoperto, che affrontano la vita nella maniera così, serena, libera, direi capello lungo comunque. E se dobbiamo risolvere l'annuso problema, frangia, ciuffo, volto scoperto, volto misterioso, capello che copre lo sguardo o che lo scopre? Lì sfioriamo il personale, perché per me è una cosa molto personale, per me sono donne con le frangie, sono stupende donne a cui non potrei mai vedere quella frangia. Dipende, cioè non c'è una vera tendenza frangia o non frangia, sicuramente c'è un'idea che ripeto riesco a essere molto, sono troppo personali in questo pensiero, per cui per me è una donna deve essere bella perché si sente bella e nel momento in cui si sente bella frangia, ciuffo, tutto va bene.